Mi chiamo Federico Ventivogli, ho 36 anni, sono il titolare dell'azienda Titi Shirt. Noi facciamo abbigliamento fashion personalizzato per linee di moda che nascono. Da noi le linee di moda vengono con un'idea in testa ed escono vestite della propria idea. Qui possono trovare tessuti, possono trovare proposte di stampa, proposte di stampa quindi delle texture già pronte, possono trovare consigli sulle tipologie di stampa da adoperare per finire i propri progetti. Le persone vengono da noi alla ricerca soprattutto di una consulenza. Noi abbiamo un fortissimo ufficio stile. Dentro il nostro ufficio stile ci sono dei designer laureati all'Università di Bolzano, ci sono degli stilisti, ci sono delle sarte che hanno anche collaborato con le sorelle Fontana a Roma, ci sono dei blogger che tutto il giorno ricercano quelle che sono le tendenze e gli stili futuri. I nostri clienti sono illustratori, sono start-up, sono quelle persone che oggi non sono nessuno e che cercano in un futuro di diventare qualcuno nel campo della moda. Vengono da Milano, vengono da Brescia, da Bergamo, da Reggio Emilia, vengono dalla Romagna, vengono anche veramente da Firenze, sono venuti. Qua siamo dentro, Palazzo Bresciani Rodriguez, è un palazzo che risale fine 1500 e prime 1600. Gli affreschi che vedete alle pareti sono proprio originali del periodo 1600. Noi siamo arrivati qui dopo il sisma del 2012. La precedente sede in cui eravamo era sotto un'altra casa che nell'immediato ha riportato danni. E quindi nei nostri spazi, nei nostri uffici, eravamo inagibili. Il finanziamento che ho avuto grazie a Microcredito per l'Italia mi ha permesso di andare a completare il quadro di produzione con l'inquisto di macchinari che ci servivano per incrementare, per dare un servizio aggiuntivo e completare il reparto macchine di T-T-Shirt. E in più ci ha permesso anche di aprire e allestire questo nuovo showroom.